ok perfetto allora possiamo iniziare questa lezione ma soprattutto possiamo iniziare questo corso nuovo di tecniche di programmazione eh edizione duemilaventi duemilaventuno nome in codice TDP venti ventuno eh duemilaventuno che eh diciamo così ci ci terrà compagnia ci terremo compagnia eh per i prossimi dieci crediti quindi per le prossime eh cento ore mal contate tra lezioni esercitazioni laboratori eccetera vi racconto spendo la 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 prima diciamo così la la prima ora di lezione prima ora scarsa di lezione per raccontarvi un pochino cosa faremo durante il corso eh parto subito dicendo che in tutto il corso useremo eh la come stiamo usando ora la la piattaforma zoom eh qui dice un canale di chat libero e quindi in qualunque momento vogliate intervenire fare domande eccetera io eh mentre guardo voi altre camera con l'occhio se vedete che guardo verso sinistra perché l'altro schermo in cui in cui lo lasciate quindi cercherò mentre parlo anche di seguire i vostri messaggi i vostri interventi ehm se qualcuno volesse intervenire anche prendendo la parola in audio addirittura facendosi vedere quando vuole chiedere qualcosa non c'è nessun problema diciamo così che questa piattaforma regge tranquillamente a differenza di altre e e non fatevi problemi a interrompere come se fossimo in aula no? Cioè cerchiamo di mantenere la lezione un pochino eh viva nel senso che eh rendiamo la diversa rispetto a una lezione videoregistrata offline totalmente offline in cui uno registra e nessuno interviene no? Quindi a me fa piacere se riusciamo se riesco ad avere un feedback oltre del fatto che qualcuno dietro del vostro nome ha cliccato su connettiti che esistete davvero eh e se state seguendo se state diciamo così trovando difficoltà o ete domande curiosità o qualunque altra cosa ok? Quindi per me l'interazione è benvenuta. Ehm vabbè a parte diciamo queste modalità poi entraremo un pochino più nel dettaglio di quali sono i modi per tenerci in contatto eh questi sono diciamo così dati di targa no? Di eh diciamo quelli di di base di questo corso dove la cosa più importante ma in realtà ve l'ho già detta probabilmente in tutte le salse è che tutto il materiale sarà disponibile è disponibile sarà gradualmente disponibile su questo sito web. Quindi tutte eh le slide di lezione tutti i video registrati tutti i testi degli esercizi di laboratorio le soluzioni degli stessi eccetera eccetera saranno tutti sempre su questo sito. Quindi io tenderò praticamente a non usare mai il portale della didattica eh salvo eventualmente per caricare una una copia delle video lezioni perché così ve le vedete anche anche sull'app se vi se vi accomodo vedere direttamente dall'app eh o ve le potrete scaricare eventualmente cosa che potete fare così potete eventualmente riguardare eh offline ma il materiale di riferimento il punto di riferimento è questo ok? Da lì trovate tutti i link tutti tutti tutte le informazioni eh rilevanti. Ci siamo tre docenti che si alterneranno eh io non mi sono ancora presentato sono Fulvio Corno che eh docente diciamo così titolare di questo insegnamento eh e nelle lezioni eh delle lezioni lezioni di esercitazioni teoriche diciamo non sono teoriche sono pratiche ma nelle lezioni ci alterneremo eh io ed Alberto Monge principalmente eh mentre invece Tatiana Tommasi seguirà la parte eh più legata al laboratorio quindi la la avete modo di incontrarla già domani in in laboratorio e per buona parte del corso sarà lei che si occuperà del laboratorio mentre io ed Alberto ci occuperemo del generalmente delle lezioni poi magari poi faremo qualche scambio stata facendo perché magari io devo fare un laboratorio e Tatiana vuole fare una lezione dipendendo dagli argomenti ma questi sono diciamo così dettagli organizzativi interni nostri. Ecco ehm inizia questo semestre di nuovo un po' strano eh per se gentili per non usare parolaccia al posto di strano eh non so io volevo fare un minimo di 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 indagine eh eh al per capire dove siete cosa fate come come pensate di organizzarvi ok allora se voi prendete in alto in in zoom c'è una 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 voce che si chiama annotate annotare annotazioni da lì potete prendere una matitina e potete scrivere eh sulla slide quindi così ad esempio no se io in teoria dovreste essere abilitati tutti che non so io vi posso dire che in questo momento sono più o meno in questa dove è finito sono più o meno in questa zona qua eh avete voglia di segnarvi dove siete voi in questo momento anche solo posizionare il mouse dovrei far vedere diciamo così la casellina ci sono due che hanno disegnato delle frecce vicino alla Puglia quindi probabilmente sono in traghetto che stanno scappando così anche voi diciamo così tra di voi sapete dove collocarvi quindi è chiaramente eh eh così un esercizio qualitativo non abbiamo le percentuali non abbiamo il luogo esatto però eh cioè così si vede che c'è una ventina di persone forse più che in qualche modo sono in centro sull'Italia in questo momento non se non sembra il momento che ci sia nessuno diciamo quelli che sta seguendo fuori dall'Italia che addirittura saltano fuori i cuoricini non fatemi emozionare ehm ok quindi immagino diciamo che una una quindi non si tratta di votare per la regione che vi piace di più però eh quindi immagino molti molti stanno gravitando intorno all'area torinese per cui diciamo così la domanda successiva ehm è questa scusate fatemi cancellare questa eh dove come si fa a cancellare lo schermo ok cancella sono un po' impedito con questi mezzi interattivi scusate ecco ehm vi posizionate da sinistra verso destra in questo spettro dal dire cerco sempre di venire il più possibile a seconda di qua oppure quanto eh colcini mi piacciono mi stanno piacendo piuttosto che i scarabocchi non sapevo che si potessero fare vedi che imparo sempre qualcosa stamp io mi metto bello qua in mezzo quindi siamo un po' divisi no? ehm forse a spanne mi verrebbe quasi da dire che ci sono persone che erano forse in Piemonte e in Torino e tenderanno anche essi a seguire eh online. Ecco su questo eh va bene abbiamo una buona una divisione adesso come vi dicevo non è un'indagine quantitativa quindi ce lo so per avere un'idea eh di gruppi che hanno scelto di seguire in modo diverso e noi cercheremo nei limiti delle nostre capacità diciamo così di riuscire a seguire entrambi i gruppi quindi diciamo così provare andare avanti come un'unica classe anche se sarà fatta di persone che eh tendenzialmente eh purtroppo non si possono ehm sempre incontrare no? E soprattutto questo sarà per i laboratori quindi adesso vi racconto cerchiamo di raccontarci no? Come pensiamo di organizzare i laboratori eh in modo da ehm sopperire a questa ehm a questa complicazione ovviamente no? Che nessuno di noi ha voluto però alla fine ci siamo tutti trovati eh sul gruppone. Ok. Ehm cancelliamo, andiamo avanti. Perché lui mi nasconde sempre tutti i controlli ogni volta che clicco uno. Ok. E quindi andiamo avanti a a vedere come anche tenere conto di di questa situazione particolare eh per organizzare il corso. Ehm beh cosa cosa trattiamo? Innanzitutto trattiamo del contenuto e dell'obiettivo. Eh parlo tra un attimo dei laboratori Marco se arrivo con calma eh diciamo così da questa prossima mezz'ora parleremo di aspetti organizzativi e quindi poi quando vi racconto le cose poi mi fate le domande eh di dettaglio. Eh allora vi dico prima qual è il mio obiettivo eh sono andato a vedere la prima edizione di questo corso l'ho fatto nel duemiladodici mi hanno chiesto fare un corso di algoritmi per i gestionali. Eh e io mi sono chiesto come faccio a fare un corso di algoritmi per i gestionali senza farmi uccidere. Eh e mi sono chiesto che cosa interessa un ingegnere gestionale eh dal punto di vista diciamo così della capacità algoritmico informatica. Eh e quindi non volevo chiaramente fare una replica di quello che sono i corsi diciamo di programmazione che fanno magari gli informatici o gli elettronici ma adattarlo a quelle che potrebbero essere le vostre esigenze come diciamo fini di percorso triannale. Eh ditemi se si sente bene eh o se se avete problemi di audio o altro ditemelo pure e cerchiamo di intervenire perché io ovviamente non mi sento. Eh per quanto riguarda eh l'obiettivo principale è quello di eh farci ragionare sulle tecniche di problem solving. Cioè eh l'idea che ho in mente è che eh quando affronterete no? Dei problemi nel vostro nella vostra vita lavorativa no? Da da ingegneri gestionali ehm imparerete nelle varie materie molti metodi no? Di per affrontare i problemi per approcciarli eccetera eh molti metodi che arrivano proprio dalle vostre discipline l'economia la logistica l'organizzazione l'impresa eccetera eccetera e avranno tante metodiche per affrontare un problema per trovare una soluzione di fronte diciamo così a un problema eh aziendale o industriale. Ecco io volevo eh semplicemente farvi presente che nella vostra eh diciamo così ehm per i vostri strumenti no? A cui potete fare affidamento c'è anche quello dell'informatica c'è anche quella programmazione. Quindi tra le varie opzioni possibili per affrontare un problema c'è il metodo tal dei tali, il metodo che ho studiato sul libro, il metodo che mi ha detto il professore ma c'è anche il metodo informatico. Cioè faccio un programma che cerchi di aiutarmi a calcolare la soluzione oppure proprio mi calcoli la soluzione tenendo conto dei vari parametri. Quindi capire come si possono usare eh i programmi per eh non solo fare esercizi eticartini come quelli che facevamo al primo anno o delle query super complicate ma del tutto inutili come quelle che facevate ad esempio nel nel corso di basi dati o dei degli oggetti fine a se stessi come quelli che facevate nel corso di programmazione oggetti ma eh programmi completi che risolvono un problema specifico. Quindi arrivare al fine e dire ok in questo corso facciamo un programma che risolve un problema così avrete nel cervello in futuro che tu guarda magari i problemi si possono risolvere anche impostandoli e risolvendoli dal punto di vista informatico. Perché questo abbia senso dobbiamo metterci in un contesto che sia un contesto non troppo giocattolo. Nel senso che è inutile che facciamo il programmino che risolva il problema di mettere eh posizionare al meglio quattro persone all'interno di tre sale riunioni. Ma chi se frega quello lo faccio a mano no? Perché è esattamente un problema giocattolo che non mi serve accendere un computer per farlo. Eh e quindi dovremo andare su problemi diciamo così reali o realistici. Eh e non eh non troppo piccoli, non troppo giocattolo e quindi vedremo che i i tipo di esercizi che faremo lavoreranno su dati reali no? Tipicamente anziché su cinque che ne so pensate ai corsi precedenti magari avevate un fileetto con cinque righe, dieci righe su cui dovevate lavorare e qui invece invece andiamo a scaricarci il dataset che ne so dell'istat di centomila righe ecco che ha i dati su tutti i comuni italiani negli ultimi dieci anni, qualcosa di questo genere. E allora partiamo da da problematiche che siano non di big data come si dice ma perlomeno su dati realistici e li affrontiamo con eh del software che sia in qualche modo anch'esso eh realistico. Quindi non il programmino eh diciamo così che si lancia da linea di comando che gira nella finestra d'orso, nella finestra nera eh ma partiremo già subito anzi già oggi cominceremo già subito a vedere come impostare un'interfaccia grafica per un programma perché noi voi non potrete mai far vedere a un collega ah ho fatto questo programmino per risolverlo però per lanciarlo devi scrivere questo comando con questi ventisette parametri ecco vi ride in faccia e poi non vi saluta più non vi offre anche più caffè ehm e quindi eh cerchiamo anche di imparare a costruire dei programmi che siano guardabili no? Che siano diciamo così alla pari in certo senso quasi con programmi diciamo così che che possono fare altri. Quindi questi sono i tre obiettivi. Imparare a costruire dei programmi che siano mediamente utilizzabili con un'interfaccia grafica essenzialmente che siano in grado però di lavorare con dei dati anche di ampia dimensione per poter risolvere dei problemi realistici. Non è banale chiaramente eh questi sono tre linee, tre direttive eh in cui diciamo stiamo cercando di lavorare eh vedremo fin dove fin dove si riuscirà ad arrivare. Ecco su queste tre direttive ho poi declinato quelli che sono gli specifici argomenti del corso, quelli che poi trovate sul portale della didattica sui vari argomenti che non sto qua a leggere perché eh sempre trovato abbastanza arido e leggere un elenco di nomi di cui per ora non conoscete nulla e quindi dice vabbè ho capito ha detto tante belle parole ma non mi ha non mi ha fatto capire nulla di più. Eh quello che vi posso eh promettere o minacciare e che questi punti chiaramente alla fine del corso invece scusate eh eh li conoscerete sicuramente. Eh anche come metodo di lavoro cercheremo di darci degli strumenti eh che siano diciamo così un assaggio no? Di quello che fanno gli ingegneri del software reali anche come strumenti di eh di sviluppo eh a maggior ragione adesso che siamo a distanza dobbiamo anche solo per condividere un programma ho fatto questo non mi viene come faccio dove l'errore immaginate un po' come potete fare se io sono chiuso in casa mia e voi siete chiusi in casa vostra ecco questo si può fare pensate che ci sono dei team di sviluppo internazionali in cui gli vari sviluppatori lavorano insieme su un programma anche se stanno in nazioni diverse su fusi orari diversi ecco questo per fortuna gli strumenti ci sono e noi cominciamo a imparare quindi vi ho fatto installare un po' di roba e adesso po' per volta la digeriamo. Eh questi argomenti sono stati eh questi sono gli stessi argomenti di prima grossomodo eh divisi nelle settimane quindi sulle tredici quattordici settimane di corso non ho contato l'ultima quattordici settimana perché ovviamente l'ultima settimana si fa solamente prove d'esame quindi non c'è non ci sono eh argomenti nuovi quindi in grosso modo questi sono i macro argomenti che troveremo settimana di settimana in settimana ma anche qua come vi dicevo è più utile come riferimento a posteriori che non semplicemente come elenco di nomi ehm ehm a diciamo così da 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 leggere all'inizio eh quindi alla fine eh l'obiettivo come dicevo eh affrontare problemi qui ci porremo dei problemi alcune volte cercheremo anche di fare in modo che questi problemi siano un po' di giochi dei giochini in un certo senso no già che ci siamo eh attingeremo parecchie volte a a giochi giochi di società videogiochi eccetera per per trovare l'algoritmo il problema eh da risolvere su cui poi inventarci un algoritmo eh useremo sicuramente la programmazione oggetti quindi è eh molto importante che voi siate eh sufficientemente agili nella programmazione Java eh so già che qualcuno di voi non è riuscito a seguire slash non è riuscito a superare il corso di eh programmazione oggetti e eh la mia esperienza mi insegna che dopo le diciamo con due o tre dopo le prime due tre settimane alla fine si riesce abbastanza mettere in pari con quelli che sono i concetti fondamentali eh utili diciamo così a poter lavorare ci sono poi anche sul sito vi faccio poi vedere eh dei link dei suggerimenti di approfondimento essenzialmente quali sono le cose che dovete studiarvi di di Java ehm l'approccio qua è un po' diverso mentre nel corso di programmazione oggetti si cercava di imparare tutti i vari costrutti no appunto di un linguaggio ad oggetti quindi la classe cos'è la superclasse i metodi eccetera eccetera eh le interfacce come funzionano quali sono le regole poi applicarle ehm però era quasi più una trattazione non dico enciclopedica ma dovevamo ovviamente vedere i vari punti qui prendiamo il punto di vista inverso eh sapendo queste cose sapendo quelli che sono i costrutti della programmazione oggetti come faccio a usarli per costruire qualcosa di utile per costruire qualcosa di eh che mi solve il problema qual è il modo migliore di mettere insieme le cose eh adesso questa frase qua che ho detto rimane un po' astratta ma chiaramente la vedremo molto con gli esempi no la vedremo molto in pratica col codice ehm vabbè eh punto a realizzare applicazioni gradevoli è il discorso di fare programmi che abbiano un minimo interfaccio utente anche se ci accorgeremo che che ci complica la vita e ovviamente parlando di dati reali eh l'efficienza è importante nel senso che se tu hai un programma che non è efficiente fa molti cicli fa molte elaborazioni quindi ci mette dodici anni a diciamo così a completare un calcolo non ti serve a molto no quindi comunque impareremo anche a misurare un pochino stimare quello che è l'efficienza di elaborazione di certi tipi di algoritmi ci accorgeremo che ci sono problemi carini semplici con algoritmi semplici ma che ci mettono magari cento miliardi di anni ma non è un numero inventato magari sono eh ci metterebbero quella quantità di tempo a trovare una soluzione e allora ci accorgeremo che magari non va bene e dovremo trovare soluzioni diverse non andremo in questo corso ad imparare no molti diciamo così tipi di algoritmi di ottimizzazione ci limiteremo quelli base no parlati sulla ricorsione però eh capiremo subito quando si parla di complessità eh che cosa che cosa vuol dire toccheremo con mano essenzialmente no problemino semplice carino ma non riesco a risolverlo è un pochino ci farà arrabbiare però capiremo anche perché ehm e quindi tutte queste sono cose che fanno deviare parecchio rispetto al corso di di algoritmi di programmazione che fanno gli informatici che adesso da quest'anno cambierà perché come sapete c'è stata la rivoluzione del primo anno ma eh l'importazione è abbastanza diversa no? È abbastanza specifica. Ok dal punto di vista eh organizzativo come come ci muoviamo? Vabbè eh se siete qui eh centoquarantanove centoquarantanove persone ehm anzi centoquarantasette perché uno sono io l'altro ho visto che si è collegato Alberto Monge ehm questo è l'orario delle lezioni abbiamo scelto eh di usare sempre a priori abbiamo scelto a priori di usare sempre zoom e eh abbiamo scelto di attivare zoom con un link fisso che è quello a cui vi siete collegati questa mattina che sarà lo stesso per tutto l'anno quindi non dovete aspettare che arrivi il link dal portale ogni mattina ed ogni mattina chiedervi ma si farà lezione sul portale oppure si farà su zoom oppure chissà se funziona la prima mezz'ora la passiamo eh no prima mezz'ora passiamo a fare lezione quindi sappiamo che le lezioni sono sempre eh su questo link eh sempre negli orali che sono previsti le tre ore del lunedì ehm non mi piace chiamare tre ore sono due lezioni da un'ora e mezza quindi in mezzo ci prendiamo una buona pausa perché altrimenti diciamo si si fonderebbe a fare tre ore in aula figuriamoci tre ore online ehm e quindi le ore verdi diciamo quelli sono quelle di lezione bar esercitazione nel senso che poi alla fine vedrete che molte lezioni sono anche molto pratiche apriamo il codice apriamo il clip ci scriviamo il codice insieme ragioniamo su ciò che stiamo scrivendo ehm e eh mi farebbe piacere eh anche se eh mi farebbe piacere se anche voi stessi eh in parallelo eh provaste no a fare esercizi che ma via via eh via via facciamo eh c'è la nota di Matilde che mi dice che forse ho sbagliato l'orario mi dice che il mercoledì è alle tredici e io invece ho scritto alle 11 e trenta quindi c'è un buco di avete un buco? Può darsi che io abbia scritto male anzi è molto probabile eh dunque sì avete molta ragione avete molta ragione nel senso che qua non c'è lezione ma è qui invece online perfetto ah ok il buco ce l'abbiamo noi non ce l'avete voi quindi voi chi viene online c'ha quelle belle 6 ore consecutive ok è così grazie della della nota cancelliamo proprio ok e quindi abbiamo queste tre eh tre lezioni di teoria e questi due eh slot di laboratorio sono due squadre di tre ore ciascuna qui invece parlo proprio di tre ore perché sono tre ore consecutive in cui voi potete svolgere i eh gli gestiti di laboratorio allora eh il laboratorio avete visto che è diviso in due gruppi il gruppo del martedì si svolge in aula 12 e il gruppo invece del mercoledì è invece in aula virtuale quindi si svolge online allora tornando alle diciamo così ai porcini che avevate messo sulla mappa precedentemente eh chi eh è in frequenza chiaramente vedrà verrà il martedì e chi non è in frequenza verrà il mercoledì ok eh non c'è divisione alfabetica dalla A alla L no perché la divisione è semplicemente logistica eh gli laboratori quindi non vengono registrati eh perché non c'è nulla da registrare essenzialmente eh perché vi verrà proposto il testo vi viene dato il tempo di risolverlo e ci sarà una videochiamata zoom con docente borsista eh che sono pronti a rispondere alle vostre domande mentre mentre lavorate poi di tanto in tanto il docente eh magari darà dei suggerimenti tra siete arrivati fino a questo punto avete pensato a questo problema eccetera a a a modi di stimolo eh ma il grosso del lavoro durante il laboratorio sarete diciamo così il lavoro individuale in cui cercherete di risolvere gli esercizi ehm per quanto riguarda il lavoro in aula sapete che dovete prenotarvi eh io ho guardato ieri sera se mi sembra ci fossero ancora posti liberi eh però chiaramente c'è tempo se non sbaglio fino fino all'ultimo giorno ehm fino al giorno precedente per per prenotarsi eh l'unica cosa siamo facciamo laboratorio in aula eh 12 eh e non e non in laboratorio informatico il motivo è questo eh i motivi sono tanti il primo motivo è che l'aula eh l'aula chiaramente è più ampia eh quindi più grande c'è più spazio e si può distanziare meglio l'altro motivo non so se voi si siete al terzo anno quindi avete già avuto un anno e mezzo fa due anni fa l'occasione di andare al laboratorio LEP quello dei gestionali ehm questa è una fotografia della settimana scorsa di dello stato in cui si trovava il laboratorio eh perché c'è stato eh avete presente che il laboratorio si trova sopra a un piano terra in cui c'è un'officina meccanica del dipartimento di meccanica ecco in quell'officina si è sviluppato un incendio e quindi il fumo e la fuligine dall'incendio sono andati a diciamo così a ricoprire tutto tutte le superfici del eh del primo piano quindi questi sono i tavoli del laboratorio dove il nero è la fuligine il bianco è dove dove c'erano appoggiate le tastiere e i computer i quali ovviamente erano anch'essi coperti di fuligine qui vedete il tecnico Barrera in tutta l'astronauta perché chiaramente lì non puoi andare a respirare quello che c'è lì dentro quindi al momento è stato c'è stato un disastro per fortuna non sono arrivate le fiamme ma i fumi si è totalmente inagibile questo vuol dire sia per ragioni di spazio che per ragioni diciamo così di disastro eh non andiamo eh in laboratorio ma andremo eh in aula dodici eh e questo vuol dire che eh ecco partiamo da qua partiamo su parliamo subito di questo eh che voi dovrete lavorare eh col vostro computer quindi in aula dodici se non sbaglio ci sono ci sono dovrebbero esserci le prese eh mi sembra di sì a tempo fa avevo controllato mi sembra proprio che ci fossero eh e e quindi dovremo portare il computer e dovrebbero essere prese sotto i banchi eh potete lavorare quelle tre ore lì in in aula mh avevo chiesto un'aula con le prese insomma eh ma sono abbastanza sicuro che ci sono perché viene usata molto spesso per per didattica distanza quell'aula mentre e e quindi si svolgerà normalmente come come se fossimo in laboratorio l'unica differenza che avete il vostro pc sarà sarete un pochino disincentivati da lavorare a gruppetti dovrete stare un pochino distanti con le solite regole però è un laboratorio diciamo così relativamente normale eh mentre invece quella del del mercoledì la faremo la faremo via zoom ecco ehm qui poi dateci anche poi voi delle reazioni dei suggerimenti eh una delle cose che si può fare con zoom è la creazione di stanze no? Eh perché cosa succede? Che se siete collegati in 40 e fate l'esercizio è chiaro è chiaro che ho lavorato ognuno per sé e poi magari per fare domanda non so se fate in privato al docente eh oppure perché se tutti fanno domande contemporaneamente non si capisce più niente no? Eh ci si si disturba la vicenda però si può fare non è un problema ma eh oppure eh però altrimenti lavorereste da soli come fate a lavorare magari in gruppetti due tre che magari viene meglio no? Perché uno ci si aiuta anche anche in laboratorio magari che erano in due per computer oppure si mettevate vicino nel gruppetto di amici eccetera. Allora quello che possiamo fare è creare appunto queste stanze ehm che sono diciamo delle sottoconferenze in cui potete entrare a piccoli gruppi. Se e qui in quei gruppi lì parlate tra di voi liberamente. Potete parlare, potete condividere lo schermo, potete condividere il video, tanto sapete che siete il gruppo di quei tre, quattro, cinque insomma che vogliono lavorare insieme e a quel punto poi se avete bisogno tanto eh diciamo qui il docente entra nella stanza, vi risponde ma nel frattempo potete anche diciamo parlare i fatti vostri tranquillamente senza un tempo di disturbare tutta l'aula o senza che il docente vi ascolti in certo senso se avete delle cose poco simpatiche da dire o chi lo sa. Quindi questa è una modalità che potremmo sperimentare. Magari partiamo con i primi laboratori e vediamo se secondo voi è utile mettere a disposizione delle stanze in cui se volete potete entrare per lavorare a gruppi. Vi dà un pochino più di coraggio che non lavorare il singolo da solo davanti al computer e magari fare una domanda a due ogni tanto perché lavora insieme e sullo stesso esercizio. È vero che ognuno sarà sullo stesso computer ma lavorate insieme sullo stesso esercizio e potete parlarne tra di voi eventualmente. Vedete voi ecco cerchiamo di mettere a disposizione le varie forme in modo che poi ciascuno ciascuno diciamo così scelga il modo in cui si trova meglio. E qui ho messo questa frate sibillina che dice essenzialmente dice proviamo a partire così e poi vediamo come va e eventualmente aggiustiamo il tiro. Questo alla fine è il punto di partenza. Ok per la squadra mercoledì non è necessario prenotarsi ovviamente nel senso che chi si collega semplicemente libero faremo un modo poi appunto in funzione di quante persone si 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 collegheranno oppure quante persone verranno in presenza martedì anche la borsisti presenti vedremo se dove collocarli in modo da fornire poter fornire un'assistenza decente in entrambi i casi. Proviamoci io sono convinto che di questo corso in questo corso il laboratorio è una parte fondamentale. Vi accorgerete man mano che andiamo avanti che appunto man mano che andiamo avanti gli esercizi di laboratorio sono sempre più simili agli esami. Quindi quello che succederà è che negli ultimi tre laboratori facciamo esercizi che sono identici a quelli che troverete all'esame. Quindi se volete essere non è un esame sorpresa in cui mi spiegano certe cose poi all'esame ce ne sono cose completamente diverse. No sono esattamente lo stesso tipo di esercizi e questa è la per cui ritengo molto importante riuscire a seguire il che voi seguiate il laboratorio e noi cerchiamo di supportarvi in ogni modo possibile. Il resto è più semplice le lezioni esercitazioni avete il vostro computer attraverso cui vi collegate quindi potete anche provare in parallelo i vari eserciziati che facciamo le varie cose che che proponiamo durante la lezione. le lezioni vengono videoregistrate appunto con con zoom e subito dopo la lezione subito vuol dire nell'arco di un paio d'ora al massimo di solito vengono caricate le caricherò sia su youtube sia sul portale della didattica nella sezione video lezioni da cui potete sia vedere sul portale didattica sia vederle diciamo così nella sezione video lezione dell'app o del sito sia anche scaricarle con le rendo tranquillamente scaricabili dal materiale quindi chi vuole scaricarsi i file per averli offline oppure se le guardate online tranquillamente su youtube come preferite questo avverrà sempre in giornata di solito subito dopo la lezione se non ci sono impegni particolari mi metto lì e appena il video viene codificato che richiede un po di tempo di calcolo lo pubblico immediatamente come dicevamo le videochiamate le apriamo il teatro di aprile all'orario previsto ma cerchiamo iniziare darci un protocollo iniziare cinque minuti precisi dopo l'orario così non stiamo aspettare quanti siamo sappiamo che l'ora di inizio esatta è otto e trentacinque oppure le ma ci sono le tre c zero cinque il link come dicevo è lo stesso per tutto l'anno e come vi ho detto all'inizio abbiamo la chat di zoom e abbiamo la possibilità di parlare o di intervenire in qualunque momento ecco il laboratorio dicevo che la parte più importante del corso noi vi proponiamo degli esercizi quindi pubblicheremo dei testi oggi pomeriggio pubblicheremo quello per domani ma spesso riusciremo già a pubblicare il venerdì per la settimana successiva il testo dell'esercizio un testo in cui si svolge un certo programma tra dei tali e poi voi semplicemente dovete risolvere questo questo esercizio noi adesso questa questa settimana no perché il laboratorio è già subito domani ma impareremo poi usare uno strumento che questo github ve ne parlo l'uno di prossimo perché è lo strumento che ci permette di collaborare a distanza quindi impareremo a usare github come piattaforma di collaborazione su cui noi pubblicheremo i testi noi pubblicheremo le soluzioni voi potrete scaricarli modificarli salvare le vostre soluzioni in modo che anche noi le possiamo vedere possiamo aiutarvi eccetera eccetera è un sistema molto potente però richiede un minimo di di attenzione per essere usato quindi per questo laboratorio di questa settimana martedì macro di non useremo ancora questo meccanismo però vi avevo chiesto di farvi un account su questo sito github anche perché lo useremo sia durante tutti i laboratori sia soprattutto durante l'esame cioè la consegna dell'esame elaborato all'esame avverrà attraverso questa piattaforma github quindi è bene che non vi accorgiate due giorni prima dell'esame che dovete imparare a usarlo perché ha degli aspetti non troppo intuitivi poi in realtà il flusso di lavoro nostro sarà sempre lo stesso tra quattro cose però per quanto riguarda i laboratori noi tendiamo a pubblicare anche le soluzioni quindi diamo un esercizio e poi pubblichiamo le soluzioni ma tardi nel senso che le soluzioni quasi di quasi tutti gli esercizi ormai li abbiamo già tutte pronte quindi se volete barare potete andare a vedere l'anno scorso il materiale dell'anno scorso ma se no se rimanete se non volete barare noi la soluzione non ve la pubblichiamo nel giorno stesso né la fine della settimana ma di solito dieci dieci quince giorni dopo questo per darvi un incentivo in più a provare a risolverlo ok a provare a farlo voi e farlo riuscirci bene oppure farlo non riuscirci e chiedere aiuto ok ve lo dico molti di voi non ci credono ma io lo dico lo stesso che se voi vi studiate tante soluzioni gli esercizi fatte da altri non vi serve a niente vi serve a perdere molto tempo gli esercizi si risolvono imparando a risolverli da soli qualcuno di voi un pochino più portato per la materia e quindi vede vede intravede prima trova prima la soluzione altri invece fatichano un po' di più non è un problema siamo qui per assistervi per aiutarvi però questo richiede che siate voi stessi a provare a risolvere un problema poi vi piantate in un certo punto vi dite qua non riesco più a fare niente mi sono bloccato non so come andare avanti oppure fa una cosa sbagliata e allora ci fate vedere il codice e noi vi aiutiamo sia durante i laboratori che durante la settimana abbiamo il canale telegram apposta anche per potervi dare assistenza in questo modo quando impareremo a usare github vi diremo vedremo anche un mezzo molto molto semplice perché possiamo vedere cosa state facendo il codice che potete che state scrivendo allora l'unico modo per imparare appunto è provare sbagliare bloccarsi e poi sbloccarsi magari con l'aiuto di qualcuno per questo io credo molto poco nella pubblicazione delle soluzioni lo faccio perché se non le pubblicassi mi fareste mi fareste una testa così professore le soluzioni qua però io preferisco molto lavorare al contrario fammi tu vedere la tua soluzione e io ti dico se va piuttosto che farti io vedere la mia soluzione e a te non serve niente non ti serve per imparare come l'avrei costruita lo vedremo che magari ci sono dei programmini di 50 righe ben anche meno che ci metteremo due ore a farlo insieme ma li faremo insieme perché ragioneremo su ogni riga di codice sul perché abbiamo fatto una certa cosa se io vi dessi quel programma i 50 righe così senza il ragionamento che sta dietro fatto insieme non vi serve niente ha fatto così poteva fare in altri 17 modi perché ecco è questo che cercheremo di ragionare in questo costo non tanto avere il codice che è solo un problema ma essere in grado di costruirlo non avremo delle specifiche così precise come quella che avevate ad esempio programmazione oggetti si scrive una classe con questi quattro metodi che facciano queste cose quali sono le classi quali sono i metodi ce lo inventiamo noi perché nessuno nel mondo reale parliamo di problemi reale ci dice a serve una classe che no serve un programma che risolva un certo problema quindi questa è un pochino la logica no in cui dovremmo riuscire a entrare insieme poi come dicevo visto che lo chiedete sempre io le soluzioni ve le vedo lo stesso ma dicendovi già subito che non servono a niente c'è anche una risorsa in più da quest'anno anzi dall'anno scorso l'anno scorso col covid era stato un pochino più complicato rispetto a quest'anno e quindi abbiamo fatto un corso che è stato praticamente tutto di video lezioni registrate c'era pochissima interazione anche i lavoratori stessi quindi avevamo il borsista in cui non sapevamo poter fargli fare essenzialmente e abbiamo avuto l'idea di fargli fare dei video in cui lui il borsista l'anno scorso risolveva gli esercizi di laboratorio allora poiché praticamente non pensiamo di modificare i testi degli esercizi queste soluzioni che sono dei video in cui lui parte dal testo e risolve sono fatti abbastanza bene possono sono una risorsa vi ho già linkato sul sito e può essere utile non tanto per vedere la soluzione ma per vedere una risoluzione cioè una persona che risolve parlando a voce alta e facendo i vari passaggi però non non fatelo mai prima di averci provato voi ovviamente e sappiate che se poi l'avete voi risolto il problema in un certo modo il borsista risolve in un modo diverso e magari noi a lezione perché la settimana dopo la vogliamo risolvere in un modo ancora diverso va bene non c'è una soluzione giusta che è quella del professore e la mia per forza sbagliata sia diversa anche come impostazione ok le soluzioni giuste sono migliaia possibili migliaia di alternative ok il materiale abbiamo già detto è tutto su questo sito del corso che se vogliamo possiamo un attimo sbirciare insieme per così vi evidenzio quali sono le sezioni ammesso che me lo carichi vabbè questa pagina iniziale di informazioni non dice nulla probabilmente anche qua c'è scritto e vedi che ho sbagliato anche qua l'orario delle lezioni lo correggerò questa pagina di informazioni dà qualche link essenzialmente il link a github link ai testi d'esame adesso li vedremo e poco altro la parte interessante su cui lavoreremo di più è queste due parti qua lezioni e materiale dove nelle lezioni c'è il calendario delle lezioni quindi noi cercheremo di mettere già anche con un po di anticipo gli argomenti che tratteremo a fianco di ciascuno le slide che verranno usate quindi voi avrete sempre le slide in anticipo a volte poco in anticipo a volte tanto in anticipo dipende un po degli argomenti slide oppure il testo del laboratorio sarà su queste sezioni qua e poi nella colonna video pubblicheremo il link al video su youtube delle singole lezioni video che vi troverete come dicevo anche anche sul portale della didattica quindi qui questa sezione qui diciamo così che si chiama lezioni la potete usare per pianificare sapete che argomento verrà fatto in quella lezione sapete che cosa è stato fatto il giorno prima avete tutto il materiale relativo a ogni singola lezione mentre invece la porzione materiale ha i lucidi delle lezioni le slide sono gli stessi che ci sono nella sezione lezioni solo che nella sezione lezioni sono linkati in ordine cronologico nella sezione materiale sono linkati in ordine di materiali in ordine diciamo così di argomento qui compariranno anche le video lezioni le stesse che ci sono dall'altra parte e anche qua i testi di laboratori e come vi dicevo le soluzioni di laboratori che che fece il borsista dell'anno scorso poi gli vari esercizi che faremo in aula li pubblicheremo anche su questo sito github su questo reposito di github come vi dicevo dalla settimana prossima impareremo impareremo usarlo ma questo vuol dire che tutti gli esercizi che faccio io che farà alberto durante le lezioni non dovete necessariamente far attenzione a copiare tutto quello che facciamo perché vabbè a parte che ci sarà il video ma poi alla fine della lezione di sicuro sempre immediatamente vi condividiamo il file su cui abbiamo lavorato quindi state attenzione al ragionamento che facciamo che cosa facciamo e non state non siamo dedicate la vostra attenzione a ricopiare esattamente quello che stiamo facendo perché sa tanto siete sicuri che lo stesso file lo pubblichiamo perché lavoriamo già direttamente su quest'area condivisa di github essenzialmente e quindi nel momento in cui salviamo il file un bottoncino si chiama push e automaticamente lo potete vedere e saranno tutti lì questi esercizi che sviluppiamo via via durante le lezioni poi ci sono altre librerie altri data set che via via potremo poi di cui potremo avere bisogno in futuro ok c'è poi una sezione esame che contiene le regole di funzionamento dell'esame e i testi di esame degli anni precedenti ci sono quasi non tutti perché ce ne sono dimenticati alcuni ma buona parte ovviamente avremo modo di parlare dell'esame più avanti quindi non vi sto da annoiare adesso tanto poi ci dimentichiamo vi dico solo due cose di base l'esame non sarà con respondus sarà un esame in cui voi dovrete risolvere un esercizio di programmazione a casa vostra sul vostro computer con video sorveglianza quindi apriremo una chiamata zoom nella quale noi vi guardiamo con la telecamera e vi chiediamo di condividere il vostro desktop con zoom è possibile che più persone abbiano la condivisione desktop contemporanea e quindi noi possiamo vedere cosa state facendo e vedere cosa avete sul computer in questo modo ci sembra che la sorveglianza sia sufficiente senza usare gli strumenti del demonio e quindi facciamo un compito diciamo rilassante o nel senso che l'unico componente d'ansia è fare il compito giusto non ci sono imprevisti dovuti alla connessione a respondus che cade l'autenticazione eccetera eccetera potrete usare anche internet quindi potete usare tutto il materiale stampato libri appunti ricerche su internet quello che volete durante l'esame tanto è normale andare a cercare un'informazione su come si chiama quella funzione tanto quello che importa a quello che a noi importa non è che sappiate memoria come si chiamano le funzioni di libreria ma che sappiate metterle insieme no sappiate costruire il programma quindi un esame in cui in queste due ore vi mettiamo in condizioni più realistiche possibile per poter realizzare un programma un vostro programma alla fine delle due ore questo programma viene consegnato attraverso github e subito dopo viene verificato viene verificato che chiaramente faccia ciò che deve fare e adesso poi vi parlo tra un attimo delle modalità in cui in cui vengono calcolati i voti quando parlo di consegne mi chiede Giulio noi non chiediamo consegne dei laboratori intermedi cioè i laboratori li fate per voi noi non non diamo voti ai lavoratori consegnati quando parlo di consegne usiamo però lo stesso meccanismo con cui voi salvate il vostro lavoro su github così per averlo è lo stesso meccanismo che ci può permettere di guardarlo per cui se avete dei dubbi ci chiedete ci mandate il link e noi andiamo a vedere il vostro codice quindi uno strumento di condivisione e poi però è esattamente il stesso strumento in cui si consegna all'esame allora la consegna all'esame viene fatta con lo stesso metodo con cui lavorate sugli esercizi nessuno vi obbliga tra virgolette consegnare su github i laboratori durante il corso ma conviene semplicemente a voi un metodo di lavoro che così impariamo a votare come dicevo anche prima se lavorate in gruppo github permette anche a più persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto quindi anche uno skill che ci serve o vi serve per il futuro non ci saranno strutture simili ai test di programmazione oggetti no non ci sono non ci sono dei test automatici vi daremo un test di esercizio un problema vi diamo uno scheletro di programma in cui ma di fatto uno scheletro vuoto ecco c'è già l'impostazione del programma ma come vedremo è quello che viene creato automaticamente quando crea un progetto ma così abbiamo tutti le stesse librerie preimpostate non dovete perdere tempo a impostare librerie eccetera ed all'interno di questo scheletro dovete realizzare il vostro programma siete totalmente liberi di fare ciò che volete e il test sarà un test umano nel senso che insieme apriamo il programma e vediamo se funziona eccolo qua allora per fare questo come dicevo dalla settimana prossima useremo ma voi nel frattempo vi ho già chiesto di creare un account su questa piattaforma che si chiama github ci sarà un'area dedicata al nostro corso che si chiama appunto tdp 2021 su github al momento c'è un progetto solo si chiama repository in gergo che si chiama materiale dove ho messo anche le slide sono le slide dell'anno scorso che poi via via aggiornerò però lì dentro c'è anche una coppia di tutto il materiale didattico del corso è un altro un altro luogo da cui potete scaricarlo se se vi fa piacere e quindi entriamo diciamo così nei strumenti che ci servono per seguire il corso come dicevo prerequisiti sono essenzialmente due uno è programmazione oggetti e l'altro non l'ho detto specificamente ma l'ho dato quasi per scontato dovendo lavorare con dei dati reali e questi dati non li memorizziamo in un file letto di testo che mi sono inventato io ma li memorizziamo in un database relazionale quindi ciò che sapete del corso di base di dati come usare un database come strumento di lavoro no quindi non non faremo progettazione di base di dati però troveremo dei dati già esistenti dovremmo riuscire a gestirli quindi dobbiamo riuscire a interrogarli fare select e far interrogare questi dati vedrete che le interrogazioni che faremo qua saranno meno complicate di quelle del corso di base di dati però saranno anche molto meno guidate nel senso che di nuovo all'esame di base di dati vi dicevano fai un'interrogazione che tiri fuori questa informazione poi c'erano sei righe di complicatissime che cercassi che vi spiegavano che tipo di interrogazione fare qui non c'è di nuovo nessuno che vi dice che tipo di query mi serve so che al mio programma servono certi dati e mi invento io come fare ad estrarvi del database quindi la specifica della query me la devo dare io questo è il gradino in più che stiamo facendo in questo corso e analogamente programmazione oggetti come dicevo bisogna essere un minimo agili nella programmazione java ma le prime settimane faremo esercizi molto semplici proprio anche per riabituarci passata una sessione d'esame in mezzo quindi avete dimenticato la metà di quello che sapevate poi magari qualcuno di voi non ha studiato e quindi partiremo abbastanza lentamente nelle prime settimane materiali di studio sono questi due il cervello e il computer alla fine ovviamente il più importante dei due è quello di sinistra non c'è tanto da studiare non c'è tanto da sapere in questo corso non avremo tante pagine o tanti argomenti teorici ecco soprattutto impareremo a ragionare su problemi di una complessità maggiore rispetto a quella precedente e impareremo quindi dei metodi per aiutarci a ragionarli per aiutarci a risolverli non è che per risolvere un problema ricorsivo oppure per costruire un problema logistico su un grafo serva un linguaggio di programmazione in più quello che sapete di Java va benissimo semplicemente si applica in un modo diverso usando dei costrutti dei modali teleprogrammazione un pochino più avanzati più complesse quindi impariamo a usare meglio le cose che in buona parte già conosciamo sì per qualche nozione ovviamente la diamo per fare interfacce grafiche per costruire i grafi le librerie che ci possono servire ovviamente no ma quella è la parte facile mi accaverei in una settimana forse no mentre il resto è proprio riuscire insieme a progettare problemi più complessi e non lo puoi fare sulla carta cioè il cervello da solo non ce la fa se insieme non le provi anche a calcolatore contemporaneamente quindi sarà un corso in cui lavoreremo lavorerete molto facendo programmi provando a farli non riuscendoci e riprovandoci e cercando di trovare diciamo così il metodo risolutivo per i vari problemi che erano proposti e come qualunque sviluppatore software di oggi non si può lavorare scollegati da internet la documentazione delle librerie i motori di ricerca stack overflow che il sito in cui i programmatori si fanno domande e risposte ai vari problemi quindi magari molto probabilmente trovate già la risposta al vostro problema perché è stata fatta da qualcuno e è stata risposta da qualcun altro anni fa sono strumenti di lavoro quotidiani di un ingegnere del software e anche un ingegnere gestionale è stato sommato e quindi ci abituiamo a usarli ci abituiamo a usarli e voi dite sì ma no primo non è così scontato io già vedo di solito la metà di voi quando cerco qualche cosa scrive una domanda che è troppo specifica su google o la scrive in italiano e non trova niente o trova solo stupidaggini devi anche saper fare domande devi sapere cosa ti serve poi devi scrivere sicuramente in inglese perché lì trovi più più risposte e però non devi fare la domanda specifica all'esercizio ma ma domanda relativa al concetto di programmazione che non sai quindi non è neanche scontato noi cercheremo di farlo imparare a leggere la documentazione le librerie java sono tutte molto ben documentate con loro java doc quindi non accontentiamoci di quello che racconta che ne so in modo molto riassunto le slide vedete che nelle mie slide non ci sono quasi mai spiegazioni sulla programmazione se abbiamo bisogno di sapere come funziona una certa classe andiamo a vedere nella sua documentazione originale abituiamoci andare a leggerlo non è difficile è solo scritto in un modo in cui devo sapere dove andare a cercare le informazioni ma non serve andare a guardare su una slide oppure su un libro dove gioco forza le informazioni sono di seconda mano e spesso riassunte o semplificate impariamo ad andare a leggere la fonte ok e poi impariamo a farci aiutare dal computer a risolvere i nostri programmi e i nostri problemi cioè questa cosa qua bruttissima che vedete nella slide altro non è che l'icona del debugger di eclipse ingrandita perché se non lei poverina quell'icona è piccola quindi è già brutta così se la ingrandisco diventa ancora più brutta questo scarafaggio è il debugger che però ci salverà molte volte quando il programma non funzionerà e quindi anche imparare a fare debugging che non è solamente vado avanti passo passo finché non mi viene la noia è importante cercheremo di farlo anche noi cercheremo anche nello svolgere esercizi di sbagliare ma spesso non lo facciamo apposto sbagliamo e basta come tutti e è molto importante non solo saper risolvere un esercizio giusto quello che non si fa mai al primo colpo ma è importante trovare gli errori in un programma che avete fatto e non funziona quindi questa è la situazione normale in cui ci si trova parlavo prima di situazioni realistiche da mondo reale a risolvere un problema questi sono gli strumenti che abbiamo abbiamo davanti a noi tutta internet abbiamo un computer che sa fare tutto e si tratta a noi mettere insieme i pezzi e riuscire a trovare la soluzione poi ovviamente noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il materiale come appunto le slide ci sono dei riferimenti ai libri di testo per chi avesse piacere approfondire su qualche libro di testo eccetera eccetera ma direi che essenzialmente non c'è bisogno di tanto materiale scritto materiale di studio in quanto tale in questo corso ciò nonostante come dicevo il materiale che vediamo è tutto qua che sono essenzialmente gli esercizi e le slide e i testi delle dei laboratori testi e soluzioni laboratori se qualcuno fosse interessato posso qui ci sono alcuni libri di testo da cui abbiamo preso alcune parti più algoritmico più l'interfaccia grafica la parte di java effects o la parte di sui design avveremo alcuni design pattern questo libro racconta molto 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 carino questo altro testo invece ad first java che qua in basso sinistra io lo suggerirei se qualcuno di voi invece fosse indietro di programmazione oggetti questo è un libro testo che insegna la programmazione java quindi tra i requisiti del corso ma lo fa in un modo molto simpatico non sarebbe troppo però abbastanza leggero abbastanza diciamo così digeribile anche più rapidamente rispetto ai noiosi libri di testo classici quindi se qualcuno dovesse recuperare la java magari può andarselo a cercare su questo libro gli altri sono testi un pochino più specifici di approfondimento ma non vi sto consigliando di procurarve nessuno nello specifico quello che ci serve lo vedremo insieme e poi 99 per cento di ciò che ci serve c'è anche su internet documentazione pubblica documentazione delle librerie di come funziona java fx che la libreria che useremo per la grafica documentazione di jgraph t che la libreria che useremo per i grafici così via è tutto documentato online quindi spesso non servono i libri e poi vi ho fatto installare un po di software vario a partire da ovviamente java di di cui ci siamo allineati sulla versione 11 perché la versione 8 via via sta sempre più morendo e insieme a questo una cosiddetto un software che si chiama sim builder che useremo già nella prossima ora per costruire insieme le interfacce grafiche di applicazione usiamo questa libreria java effects che rende molto molto semplice e rapido costruire interfacce grafiche e clips ovviamente come ambiente di sviluppo perché è quello a cui siete abituati già dal corso precedente e poi un database tendenzialmente mariadb ma che in realtà è un clone di mysql va anche bene la versione di mariadb che c'è dentro xampp se l'avete installata per il corso ddoi o dai corsi precedenti importante che ci sia un database sul vostro computer e un'interfaccia grafica come ad esempio idsql che è stato suggerito nelle slide che ci permette di lavorare con le query in un modo un pochino più comodo e costruire le tabelle vedere le colonne i tipi di dati in modo un pochino più comodo che non lavorare semplicemente a linea di comando per quelli di voi che hanno usato php myadmin forse nel corso di base di dati idsql è un programmino un pochino più comodo ancora da usare ma fa essenzialmente quelle cose per chi usasse il mac invece c'è quell'altro che si chiama sequel pro che alla fine fa esattamente le stesse cose ci permettono di testare le query e analizzare il database in modo abbastanza rapido e poi vedremo delle librerie che via via durante il corso vi indichiamo per risolvere problemi specifici lavoreremo sempre con prodotti che sono open source e possono girare quindi sia su windows che su linus che sul mac indifferentemente no il mondo java per fortuna è abbastanza orientato a questa versatilità quindi non ci sono requisiti particolari sui software o sui computer che dovete avere è un bel pacco di tool e che a cui si aggiunge poi tutta la conoscenza di github quindi ci sarà anche un pochino da da imparare usare questi questi vari strumenti nulla nulla di nulla di trascendentale come sempre una competenza pratica che poi ci può servire dopo ok per quanto riguarda questa piattaforma github qui è sbagliato non è mercoledì ma è lunedì prossimo lunedì entro settimana prossima magari l'avete già fatto bene creare un account su questa piattaforma github semplicemente creando l'account che volete ecco quello che vi suggerisco sono due cose uno quando entrate la vi chiede una mail usate la mail del politecnico se usate la mail del politecnico vi può dare avete come venite riconosciuti come studenti e quindi avete degli sconti su altri software aggiuntivi c'è una pagina che si chiama student development pack qua sotto dove ci sono elencati tutti gli sconti oppure i prodotti gratuiti che potete avere se avete una licenza come studente non è necessario per github potete usare una qualunque mail se avete una mail che viene riconosciuta come universitaria avete accesso a questi sconti l'unica per il corso non cambia nulla a me non interessa sapere la vostra matricola quando create questa è la mail quando create un utente github vi chiede un id un nickname io quello che vi consiglio è di pensarlo per il futuro cioè un nickname che vi identifichi come persona e non col numero di matricola il numero di matricola tra se siamo fortunati a settembre non ce l'avete più questo ne avrete già uno diverso ok ma tra tre anni non me ne fregarà più niente ok mentre magari il vostro account github vi rimane perché lì dentro ci caricate i vostri progetti vedo molto spesso sempre più spesso le persone che nel curriculum indicano l'indirizzo github all'interno dei quali hanno sviluppato i propri progetti che vogliono far vedere no magari sono progetti amatoriali sono progetti d'esame sono progetti anche non necessariamente di programmazione ecco github è pensato per i programmatori ma lì dentro ci posso caricare anche altri tipi di di progetti che voglio rendere file insomma che voglio rendere visibili ad altri quindi scegliete un nickname che vi piaccia che vi possa accompagnare anche nel futuro e non solamente il numero di matricola che ha senso solamente all'interno del corso cioè createvi un account che che possa che sia durevole no un nome durevole poi ovviamente siete liberi di fare ciò che volete per il corso non c'è nessun vincolo particolare all'esame poi vi chiederò di associare il nome guitar che vi siete scelti con ovviamente il vostro la vostra registrazione di matricola ufficiale del Politecnico ma quello solamente nel momento d'esame per tutto il resto non ci interessa Mario mi chiedeva nella chat nel frattempo che libro consiglio per approfondire i concetti ce ne sono tanti essenzialmente tornando indietro questo libro di algoritmi dipende a che cosa uno è interessato di più secondo me sia la parte di algoritmi che la parte di design pattern possono essere interessanti però ad esempio sui grafi su questo libro di algoritmi non è molto approfondito sarebbe magari più interessante qualche cosa che li applichi a problemi gestionali logistici magari lo vedremo sui singoli argomenti qui questo corso non è molto monotematico impariamo una cosa e basta mettiamo insieme cose diverse e cerchiamo di applicarle a problemi distinti quindi quando dici approfondire potrebbe approfondire in varie direzioni diverse secondo quelli che sono i tuoi interessi magari è una discussione che riusciamo a fare meglio quando siamo entrati già un pochino più nel vivo del corso ok due parole sull'esame come vi dicevo ma ho già accennato prima esercizi di programmazione qui c'era nel slide purtroppo è rimasta l'app ma non è l'app ma diciamo così a casa vostra ovviamente ecco non sappiamo se al momento non sappiamo ancora come si svolgeranno in termini di possibilità gli eventualmente scusate la frase mi è venuta male non sappiamo ancora se a giugno sarà possibile fare esame in presenza pare di sì però bisogna capire a che condizioni normalmente i primi appelli sono molto numerosi e quindi tendiamo a fare esame su più turni ok turno che sono alle 8 un turno alle 11 un turno alle 13 come siete abituati nei corsi quindi corsi numerosi quindi non è non è totalmente impossibile che magari un turno possa essere un turno svolto in presenza non lo so però non vi so garantire nulla ora è chiaro che se fosse un turno in presenza dovrebbe essere un turno in cui arrivate col vostro computer in aula oppure forse ci daranno la possibilità di farlo in live l'app no perché come avete visto in che condizioni si trova questo non lo so ancora questo dovremmo dovremmo scoprirlo portarvi il vostro computer usato nell'aula va bene purché la wifi del politecnico riesca a reggere tutti i computer contemporaneamente da quell'aula dipende questo ovviamente da alcune aule non ci sono problemi in altre aule la rete è un pochino più debole quindi ci sono un po' di pro e di contro su questa soluzione man mano che andiamo avanti cercheremo di capire un pochino meglio io personalmente se riuscissimo a fare un turno in presenza anche per dare la possibilità a chi c'è di poterlo fare in questo modo sarà rifavorevole però al momento non mi so promettere ancora nulla di sicuro l'esame so dire che l'esame sia in presenza sia in remoto è esattamente lo stesso che facevamo in laboratorio negli anni precedenti cioè due ore di tempo per svolgere un esercizio un programma un programma che per come l'abbiamo impostato contiene due esercizi cioè un programma unico diviso in due parti punto 1 e punto 2 punto 1 contiene essenzialmente un esercizio che noi consideriamo facile che grosso modo copre gli argomenti fino a metà del corso fino ai grafi quindi nel punto 1 verrà chiesto di fare esercizi in cui dovete interrogare un database creare una piccola interfaccia grafica che crei un grafo contenente i dati che è estratto dal database non importa se non capite questa frase sono cose che impariamo a fare entro la metà del corso poi il punto 2 invece vi chiede sulla struttura dati che è stata costruita in precedenza di fare operazioni aggiuntive per risolvere un problema di ottimizzazione attraverso la ricorsione oppure risolvere un problema di simulazione ad eventi anche lì di ottimizzazione attraverso una simulazione sono i due algoritmi più complessi che impareremo quelli ricorsivi e quelli simulativi e questo è il cosiddetto punto 2 nella nostra intenzione nella nostra mente ma anche quando risolviamo i problemi alla fine dovrebbero essere circa il punto 1 più facile un pochino più lungo perché ci sono più passaggi da fare ma molto facile perché è molto standard il punto 2 invece c'è meno codici da scrivere ma è più complesso concettualmente più complesso allora vengono valutati in modo diverso nel punto 1 abbiamo un massimo di 20-21 punti normalmente per quell'esercizio e quell'esercizio viene corretto seduta stante cioè il giorno stesso il momento stesso fate il laboratorio alla fine delle due ore consegnate consegnate su GitHub dopodiché 10 minuti di pausa e poi facciamo dei colloqui orali colloqui orali che non sono un esame orale non sono un'interrogazione ma guardiamo insieme il punto 1 del vostro esercizio quindi 1-1 vi prenderemo vi chiamiamo condividete lo schermo vediamo insieme il vostro programma e vediamo se il punto 1 funziona se funziona vi prendete questi 21 punti se non funziona per una minuzia per un dettaglio magari prendete un punto 2 in meno se non funziona e basta siete bocciati brutto dire questa parola ma è la realtà e quindi una valutazione tipo on off funziona o non funziona quindi noi diamo per scontato che alla fine delle due ore come minimo il punto 1 dovete essere riusciti a farlo se funziona il punto 1 allora ci prendiamo qualche giorno per correggere noi senza voi diciamo così senza più farlo in diretta ciò che avete fatto nel punto 2 perché di solito come vi dicevo è un'ercizio che ha un componente concettuale maggiore quindi anche noi non riusciamo magari a correggere a colpo d'occhio se è giusto o se non è giusto ma dobbiamo andare a vedere il vostro codice va anche bene molte volte magari riusciamo a dare anche dei bei voti anche se il codice non funziona nel punto 2 perché magari uno ha dimenticato un caso particolare che nella foga dell'esame ci può stare ma il ragionamento che avete fatto che avete impostato è giusto e allora in questo caso viene valutato di più il ragionamento l'impostazione che non il risultato quindi mentre il punto 1 è funziona o non funziona il punto 2 è l'hai ragionato bene oppure no l'hai impostato bene oppure no poi ovviamente il codice deve essere anche giusto e quindi abbiamo questo split questo ha un vantaggio che voi il giorno stesso dell'esame sapete se siete promossi o no e chiaramente visto che a giugno luglio ci saranno molti che sono in procinto di esame il tirocinio terminare i crediti eccetera non dover aspettare diciamo una settimana 10 giorni per avere risultati sicuramente fa la differenza quel giorno voi sapete se siete promossi o bocciati se siete promossi avete un voto provvisorio che è quello dell'esercizio 1 che vi diamo sul momento da integrare eventualmente col voto dell'esercizio 2 del punto 2 che qualche giorno dopo vi daremo però perlomeno sapete già se l'esame l'avete passato quindi vi potete organizzare il resto della sessione ok questo come macro diciamo così concetto poi chiaramente più avanti vedremo poi tutti i dettagli operativi e visto che l'esame online sarà fatto su GitHub anzi su una piattaforma che si chiama GitHub Classroom le ultime esercitazioni le faremo esattamente usando quella piattaforma lì quindi arriveremo all'esame avendo smarcato completamente tutti diciamo quelli problemi tecnici procedurali per svolgere l'esame stesso perché appunto le ultime esercitazioni saranno esattamente identiche normalmente quello che facciamo noi è preparare quattro testi d'esame e poi a caso ne estragliamo due ve li diamo come esercitazioni gli ultimi due laboratori e gli altri due li usiamo come appelli veri e propri quindi dal nostro punto di vista saranno esattamente identici e verranno svolti anche sulla stessa identica piattaforma così è chiaro che se poi uno si sveglia all'esame il giorno prima e cerca di capire come sono state fatte e non ha partecipato alle simulazioni precedenti questo poi è un problema suo ma vi diamo tutto diciamo lo strumento gli strumenti per poter arrivare all'esame avendo diciamo così tranquillità sulla modalità di svolgimento ecco c'è una conseguenza io ho preso forse sono anche vecchi queste statistiche ma grossomodo sono sono allineate anche a quelle dell'anno scorso sicuramente voi le avete già guardate ci sono due fenomeni che posso osservare andando a vedere come sono andati gli esami passati un fenomeno è che chi lo passa al primo anno lo passa con maggiore probabilità cioè quindi è più facile superarlo se lo date subito piuttosto che se è un questo esame piuttosto che lasciarlo indietro vedo che chi lo lascia indietro alla fine ha ancora maggiori ancora maggiori difficoltà a superarlo rispetto rispetto a prima proprio perché è una materia che facciamo durante il corso nei laboratori quindi alla fine dell'ultimo laboratorio se riuscite a fare l'ultimo laboratorio l'esame praticamente ce l'avete pronto in testa se invece lasciate stare e poi pensate di ristudiarlo più avanti richiede un po' di rodaggio mentale di riuscire a rientrare diciamo di nuovo nella logica del corso quindi il mio suggerimento è cerchiamo di seguirci tutti insieme bene i laboratori svolgerli consegnarli cercare di capirli bene e dare esame passarlo subito chi lascia indietro il laboratorio se vi accorgete di rimanere indietro durante i laboratori non fate finta di nulla ma insistete ok perché se a un certo punto perdete il ritmo allora molto probabilmente faticherete a recuperarlo anche durante l'esame l'altro fenomeno che osservo è questo invece questo mi dà moltissimo fastidio che le statistiche dei voti per carità non vanno malissimo come media però è una distribuzione fortemente bimodale cioè c'è un numero di persone che lo fa bene e c'è un numero di persone che lo fa intorno al vedete 18-20-21 allora queste persone che prendono questi voti sono persone non voi studenti degli anni scorsi voi non lo farete promettetemelo che si preparano esclusivamente sull'esercizio numero uno perché si fanno il conto che dicono ma io studio di meno 18-20 mi bastano e allora mi preparo solo su quello e arrivano già con l'intenzione di fare solo l'esercizio numero uno e non provare neanche a fare il due ma neanche provare a studiare per poterlo fare per carità le regole d'esame lo permettono quindi non è che però è un rischio è un rischio molto forte perché voi capite che se vi preparate per un target che come massimo può arrivare qui basta poco per slittare sotto il 18 ok basta un errore oppure una cosa che non avete capito bene e automaticamente siete bocciati perché voi cioè voi non voi coloro che facevano questo ragionamento puntavano a un voto che era appena superiore al 18 quindi per pochi errori per poche cose sbagliate chiaramente l'esame era non vaido e ovviamente non fa mai piacere ma non solo io ho notato che chi si preparava solamente per il punto uno trovava molte difficoltà nel punto uno chi è riuscito ad andare avanti quindi a seguire il corso portarsi avanti anche a ragionare sugli argomenti successivi quindi prepararsi anche per gli argomenti successivi sul punto uno andava liscio questo vuol dire che se tu ti prepari al pelo su quegli argomenti quegli argomenti per te saranno difficili ma se ci hai lavorato e costruito sopra allora la parte difficile viene dopo e la parte uno invece ti viene più facile che è poi l'intenzione vera di questo esame parte uno magari un po' lunghetta ma non ha difficoltà non ha vere difficoltà se trovate difficoltà lì in realtà siete ancora molto perché siete molto indietro ok quindi io più che raccomandarmi non posso fare ovviamente di non puntare non leggere queste regole di esame e dire ah beh allora non c'è problema questo è un corso da dieci crediti ma basta che io mi studi sei crediti che mi servono per passare al punto uno ecco se fate così siete fortemente a rischio di poi non riuscire a passarlo perché non riuscite a cogliere o a assimilare effettivamente le capacità che vi servono poi questa chiudo la parentesi paternale perché poi ovviamente sta a voi diciamo organizzarvi organizzarvi come credete però il mio vero consiglio è cercare di puntare sulla parte interessante del corso che poi effettivamente è l'ultima ok io qua avrei grossomodo terminato no? quelli che sono gli argomenti introduttivi che vi volevo citare qui ci sono alcuni riferimenti ma direi ah no ecco scusate queste slide qua mi sono dimenticato di indicare il nostro gruppo telegram che è indicato chiaramente sul sito del corso questo questo gruppo qua TDP di 2021 non state a vedere tutti gli altri gruppi in cui sono infilato perché ne ho a sufficienza che sarà che attivo sempre ok qui noi chiaramente durante la video lezione abbiamo la chat di zoom e va benissimo ma poi tutto il resto della settimana useremo questo gruppo telegram sia per sia per come dire scusate sia per darvi delle comunicazioni delle notizie degli avvisi e quindi scriveremo sempre qua su telegram quando c'è una novità quando pubblichiamo una nuova video lezione o un nuovo esercizio eccetera e poi quando anche voi stessi potete scrivere in qualunque momento se avete bisogno se avete domande e noi cerchiamo di rispondere diciamo come vedete qua stamattina già mentre stavo parlando Alberto ha risposto al volo a qualcuno che chiedeva il link e ovviamente io avevo due mani sole non riuscivo a rispondere quindi è uno strumento di assistenza diciamo continuativa anche se ovviamente noi non siamo esseri che 24 ore su 24 sono svegli attaccati lì quindi magari se fate la domanda alle 10 di sera oppure al sabato pomeriggio magari non riusciamo a rispondere al volo a volte sì a volte no però cerchiamo cerchiamo di dare risposta comunque a tutti quindi non usate per favore le mail non mandateci le mail perché poi le mail vanno perse in mezzo agli altri eccetera poi appunto in questo corso siamo tre docenti noi siamo io Alberto Monge e Tatiana Tommasi su Telegram ci siamo tutti e tre e quindi diciamo quello di tre magari che è più pronto oppure è più diciamo così sul pezzo dell'argomento può rispondere per prima se invece mandate la mail a uno poi magari potrebbe rispondere l'altro ma quell'uno non può leggere la mail o cose varie quindi usiamo questo come strumento di comunicazione diciamo così sempre al di fuori del momento in cui si svolgono le lezioni quindi le lezioni di laboratori le facciamo su Zoom e usiamo gli strumenti di comunicazione di Zoom tutto il resto del corso invece lo usiamo attraverso Telegram l'anno scorso ha funzionato abbastanza bene quindi abbiamo pensato di replicarlo anche per quest'anno gli avvisi più formali li metterò anche sul portale quando c'è scritto la composizione dei gruppi per l'esame la metto anche sul portale perché è lo strumento ufficiale del Politecnico e quello arriva a tutte le matricole iscritte ma tutte le altre comunicazioni in realtà viaggiano solamente viaggeranno solamente su Telegram anche perché è più più snello è più rapido una cosa che vi chiederei di non fare è di mandare le videate dello schermo professore mi dà questo errore e mi fate una foto sbilenca sgranata sfumata che fa vedere tutto tranne il pezzo che mi serve questo normalmente è la media di ciò che succede non da voi come sempre ma può succedere e di fatto ci rende molto difficile darvi risposta poi molte volte l'errore vi dà il segnale l'errore su una riga ma magari l'errore è sulla riga sopra oppure c'è qualcosa ancora prima che avete dimenticato due videate sopra e chiaramente nella foto non c'è quindi impareremo dalla settimana prossima come vi dicevo a usare Github per condividere il codice così noi possiamo dare un'occhiata al codice completo e al messaggio e quando mi dite però mi dà un errore scrivetemi quale errore vi dà ok non è che voi telefonate al medico e dice dottore non sto bene e gli fate vedere la foto di un mignolo e poi magari avete male alla spalla ecco questo è un po' quello che ci succede a volte mi dà un errore e non mi dici esattamente qual è il messaggio d'errore i messaggi d'errore vanno letti e copiati e scritti ok il messaggio d'errore esatto è questo completo non solo un pezzettino perché magari quello che serve per risolvere è la riga sopra e poi il programma completo da vedere impariamo a farlo da prof da prof nel senso di professionisti non da professori da pro e quindi impariamo proprio a condividere i progetti e non condividere le videote perché veramente non è per non volerlo fare ma perché proprio non si riesce a darvi una risposta perché mancano le informazioni per poterlo fare c'è una domanda da Corinne credo che mi chiede se c'è un punteggio minimo tale da ottenere sulla prima parte no il punteggio minimo torniamo qua scusate non c'è un punteggio minimo allora normalmente il punteggio minimo è 18 qui parli di valutazione on off vuol dire che se se è off guardate tolgo questa finestra le notifiche vanno all'altra parte se la valutazione non è sufficiente per il primo punto l'esame non è superato noi possiamo avere un pochino di margine nel senso che magari uno dice sul punto 1 prendo 16 punti e allora sul punto 2 magari ne hai 8 e allora va bene ok però non tanto di più che il punto 1 non può essere tanto più insufficiente perché altrimenti poi il programma non funziona attenzione non sono due esercizi diversi è lo stesso programma che continua quindi se la prima parte proprio non funziona la seconda parte neanche potrà funzionare perché si costruisce a partire dalla prima non sono due esercizi indipendenti quindi può darsi che ci siano delle imperfezioni sulla prima parte che la rendano lievemente insufficiente a maggior ragione se avete fatto un po' di seconda parte riusciamo a recuperare qualche punto però ad un certo punto quando la prima parte diventa troppo insufficiente la seconda non potrà essere sufficiente perché vuol dire che avete sbagliato delle cose che neanche la seconda parte poi non riesce a stare in piedi quindi quello che possiamo non abbiamo una soglia numerica che dice quando è minore di tot però diciamo così al di sotto il 15-16 il punto 1 non può scendere altrimenti l'esame di sicuro è fallito quei 2-3 punti possono essere recuperati dalla parte 2 se è fatta bene penso che fosse questa la tua domanda ok ok ci sono altri dubbi domande difficoltà cose che ho dimenticato di dirvi se non ci sono altri dubbi io direi che possiamo diciamo così chiudere la prima lezione prenderci 15 minuti di intervallo e poi dopo l'intervallo quindi cominciamo la seconda lezione in cui inizieremo a parlare della libreria JavaFX che è quella appunto per costruire interfacce grafiche quindi faremo un corso accelerato di un'ora qualcosa in cui partiremo da zero costruiremo qualche piccolo programmino che poi approfondiremo nel laboratorio di questa settimana il laboratorio di questa settimana ha lo scopo sia di farci introdurre alla libreria JavaFX ma anche di risolvere eventuali problemi di installazione configurazione non mi funziona eccetera eccetera poterlo fare in sincrono in una videochiamata oppure in presenza è molto più facile aiutarvi per capire il problema che non funziona piuttosto che invece non doverlo fare via chat quindi questa settimana il laboratorio sarà praticamente un attenzio semplicissimo ma così siamo sicuri che avete tutto l'ambiente di sviluppo che funziona e riuscite diciamo così a creare i programmi la settimana prossima poi cominceremo a lavorare su argomenti nuovi ok allora vi lascio una pausa sono le 9.56 quindi riprendiamo alle 10.10 10.12 minuti dopo un quarto dell'intervallo così un attimo ci riprendiamo beviamo un po' d'acqua un caffè e ci vediamo dopo grazie a tutti ci vediamo appunto stacchiamo ci vediamo riprendiamo alle 10.15 facciamo un quarto d'ora abbondante perché sono pesanti queste ore di video lezione 10.15 in punto ok dopo dopo